Ciao, io sono Rossella e faccio parte del Comitato Giovani del Festival della Cultura 2015 di Bergamo. Sono qui per invitarvi all'incontro con il sociologo tedesco Wolfgang Streck, che si terrà il 16 maggio alle ore 20.45 al Centro Congressi, Papa Giovanni XXIII. A intervistarlo ci sarà Marco Marzano, sociologo e docente di sociologia dell'Università di Bergamo. Ma anche voi potrete porre delle domande, inviandole alla pagina Facebook del Festival della Cultura. Noi provvederemo a selezionare le migliori, che saranno poste nell'arco della serata a Streck. Sarà una bella opportunità poter parlare con il sociologo a proposito del suo ultimo libro, Il Tempo Guadagnato, in cui illustra che il capitalismo starebbe per finire a causa di un'inclusione, per la mancanza di limiti posti al suo esterno. Speriamo che ci manderete molte domande e che parteciperete numerosi a questo incontro e ai prossimi proposti dal Festival della Cultura. Grazie, ciao! Grazie a tutti!